Allora, voi siete dialogrammi, non esistete, perché per la RAI noi non esistiamo, non siamo neanche esistiti a Piazza del Popolo, scusate, io li stavo con la mia tutina, oggi me ne sono messo solo un pezzo, che non c'erano organizzazioni sindacali, quindi era un evento puramente dimostrativo che un servizio pubblico decente avrebbe dovuto mandare in onda. Però, come ha detto Fedes, qui la censura in Italia non esiste, è un'invenzione, quindi io dico ma è possibile che noi critichiamo gli altri paesi, le dittature, perché non fanno parlare la gente? E qui come se nulla fosse, veniamo cancellati da un direttore che dice quelli non esistono? È possibile accettare la chiusura di un'azienda pubblica, una delle poche rimaste, visto come hanno massacrato le aziende pubbliche e i privati? E nessuno dice niente? È mai possibile che io per vent'anni ho dovuto sentire questa equazione? Crisi all'Italia, privilegio ai lavoratori, crisi all'Italia, privilegio ai lavoratori, non hanno mai detto crisi all'Italia, politici corrotti, non hanno mai detto crisi all'Italia, dirigenti corrotti. Grazie! Grazie!